Oltre alla lirica, è bellissima! Il momento cruciale della prima alla scala, ammazza quanta è sbrilluccicata! È l'arrivo dei VIP, è luminosa come il sole nel cielo e io, per renderlo memorabile, ci parto da Roma! È uno splendore incredibile, ma è lo splendore più grande che io abbia mai visto ma è lo splendore più splendido di tutta la serata! Ammazza che sbrilluccicosa! Giuro che il lampadario addosso non l'avevo mai visto! Non è un lampadario! E che è? Illuminiamo la città, è Natale! Sì, ma qua oltre alla città illuminiamo pure qualcos'altro! Un saluto signore, simpaticizia! È un bacetto, ma non me lo hai scelto a cattare la bocca! È il collo di pecora, da dove arriva? Eh, da dove arriva? È un gioco che tengo bello, è una cosa eccezionale! Una pecora in coniglio! Esatto! Oh, bella eh! Grazie, grazie! Ammazza, oh! Parecchia la sella che stasera si galoppa! Ammazza che stacco di coscia! Sarà una bella serata! Eh certo, soprattutto per lui! Il signor Passera e la signora Passera! È meravigliosa, signora Passera! Ma non c'è freddo, hai sì se è così? Appena appena! Con chi ho l'onore di parlare? Patrizia Mandrà! Come? Patrizia Mandrà! Quando gli andrà? Mandrà! Lui è suo marito? Sì! Gli andrà pure stasera? Bruno! Ha portato il libro? Fammo vedere, tira fuori il libro, Bru! Ti tiro fuori una toscia! O sai qua quante ne vennevo? Mettilo sul palcoscenico, tira fuori il libro, Bru! Grazie! Tirolo fuori! Oh, Bruno ha scritto il libro per chi non lo sapesse! Ciao Gina! Ma non c'è Gina? La carbatella! Ma non c'è Antonella di testaccio? Anna! Non c'è Anna? Non c'è Anna? Non c'è Anna di trastevere? Scusa, me so sbagliato! Signor sta pulito tutta la piazza col vestito! Ma che c'è pure l'aspiravolvere sola? Ti si è attaccata a una gomma americana dietro! Mi dispiace diglielo, ma ha caccato la cacca di un cane! Oh, l'ex direttore della RAI! Sì! Piacere Enrico, Lucci! Ciao Enrico! E cambiano tutti i vertici, mi dai una mano a fan programmino! Volevo presentarsi a Remo! Io a Remo non mi occupo più da dentro! Non c'è un amico ancora dentro qualcuno? Un amico dentro qualcuno? No! No! Le auto lussuose si susseguono una dopo l'altra! Che gli è morto qualcuno? Perché ne è morto qualcuno? No, pensavo a ammazzare il funerale con questi occhiali! Sono stata accompagnata dal console degli Emirati Arabi! Sto cazzo! Ma è quello che è questo? Sì! Ammazza che bello! Buonasera! Molto lieto? Salve! Che si è messa in testa in campo di calcio? Au! E tu da che favola esci fuori? Ma che bella! A me i sette nani andava lasciati! Con questo scialletto si è bellissimo! Posso sapere di che tessuto è? Uno chiffon! Un chiffon ricamato! Un chiffon ricamato! Un chiffon ricamato! Buonasera signora! C'ha due uova attaccate alle orecchie! E che si è messa un po' l'aglio addosso? Gli ha atterrato un ufo in testa! Ma scusa! Tutti gli anni lei mi ferma! E che gli ha detto l'altro anno? Se ero zoro! Ma ve lo dico! Mi ferma tutti gli anni! Adesso non mi prendere il culo come fai per il solito perché sennò mi cazzo! Ma perché te devo piar per culo? Io non trovo niente! A Marcella! Ma che hai messo i i dita dentro alla presa elettrica? Che bel vestito! Che cos'è questo? Antonio Riva! Sto cazzo! Ammazza o! Ci vuole un autotreno per scaricare il suo vestito! Che ti sei messo addosso? Una foresta di carbone! Ci sta qualcuno sotto? C'è il trunco ma non si vede sotto! Posso vedere? Voglio vedere se c'entro! Quando ti metti a sede ti serve tutto il palco dalla scala! Guarda una come si deve vestire! Chi c'è sta? Non potete capire che c'era là sotto! Portami a Roma! Scusi? Eh? Scusi? Non ho capito a... Portami a Roma! Poi mandare a Roma? No! Mi piace! Ma scusa! Dove esco? Non ho capito a lavorare nessuno!